Ulivagis è una piattaforma telematica tramite la quale il singolo olivicoltore potrà accedere facilmente tramite palmare, computer o tablet a tutte le informazioni relative ad ogni singola particella fondiaria coltivata ad olivo. Queste informazioni riguardano le caratteristiche del terreno così come tutte le altre conoscenze relative al microclima e soprattutto ai bisogni idrici agronomici delle piante. Tutto questo consentirà di fornire le corrette indicazioni per le pratiche culturali dall'irrigazione alla difesa delle malattie, dal giusto periodo di raccolta alla concimazione di ogni singola pianta. Il progetto che si propone a tutti gli effetti come un ulteriore salto di qualità del sistema olivicolo trentino e nazionale è stato presentato oggi al centro congressi di Riva del Garda di fronte a un vasto pubblico di produttori, tecnici del settore e comunicatori. Partners del progetto di Agraria di Riva sono la Fondazione MAG, l'associazione interregionale produttori olivicoli con sede a Verona, MPS Solutions e altri ricercatori e professionisti attivi nell'ambito della geologia, della pedologia e geomorfologia. Operativamente Olivagis si articola a partire dal programma Carta dei Suoli della Fondazione MAG, avviato su mandato della provincia autonoma di Trento ed esteso in ambito viticolo alle zone di Fondovalle nel Vigneto Trentino, nell'ambito di PICA, la piattaforma integrata cartografica agrivitivinicola promossa da Cavit. Giorgio Planckesteiner, presidente di Agraria, ha ricordato come l'iniziativa di oggi si inserisca nelle manifestazioni, eventi ed iniziative che accompagnano il cinquantesimo di Fondazione del Frantoio della cooperativa gardesana. Olivagis potrà inoltre fornire i dati di base per individuare quali fattori ambientali possono influire sulla maturazione e composizione delle olive. La qualità finale dell'olio, a sostenuto Cantini, deriva anche da un uso razionale della risorsa idrica, che dovrà tenere conto delle caratteristiche del terreno e del clima. Un olio di alta qualità dovrà infine misurarsi con l'esatto fabbisogno idrico della pianta, al fine di evitare situazioni di deficit o eccesso d'acqua. Abbiamo un olio che ormai è riconosciuto nel mondo come una qualità superiore, ma noi non ci fermiamo qua, vogliamo un qualcosa in più. Quindi Olivagis è un insieme di cose che parte dalla zonazione, dall'analisi dei terreni, dalla stratigrafia dei terreni, dalla conduzione degli oliveti, delle piante, quindi una serie di informazioni a 360 gradi. Tutto questo per portare ancora migliorie nella coltivazione dell'oliveto e quindi una qualità maggiore nell'olio. Un sistema informatico dove ci permetterà di condurre nel migliore dei modi la concimazione, la fertilizzazione dei terreni, l'irrigazione, le potature e quanto altro serve per la normale gestione dell'oliveto. Stiamo ultimando praticamente l'impianto di irrigazione del consorzio di secondo grado dell'Alto Garda che parte da River fino alle zone di Ceniga e Drò. È quasi ultimato, 2016 dovrebbe essere l'anno di partenza per l'irrigazione tutta a pressione, quindi un'irrigazione tutta caduta senza l'uso di energia elettrica. Mancano i finanziamenti per coprire l'olivaio. Io sono anche presidente di un consorzio di migliamento fondiario, quindi per noi è molto importante e strategico che la provincia si impegni, ci dia una mano a concludere questa opera che è un'opera attesa ormai da più di 30 anni qua nell'Alto Garda.